non rende ma sono enormi e vai si spinge stasera no budget fino alla morte preso le patate fritte come secondo eccolo qua guardate patatine fritte scamponi imperiali da 200 grammi in uno e altro magnum donpion 2008 e siamo solo aperitivo Federico è carico video su video con grande fratello Federico numero uno spingiamo oh la la vai aperta la bottiglia cosa più importante versiamo facciamo assaggiare la bellissima benedetta assaggia benedetta e giulia ragazzi benedetta è uno spettacolo anche la giulia due fiori due fiori appena sbocciati ma io sono un poeta ragazzi poeta filippo assaggia benedetta e assaggia anche giulia vai giulia va bene ci fidiamo ci fidiamo al posto bellissimo top grazie a tutti grazie a tutti